La polizia locale di Cantù, guidata dal comandante Vincenzo Aiello, inizierà da lunedì un piano di controllo straordinario del territorio, che fino al 13 dicembre interesserà i comuni di Cantù, Cucciago e Capiago in Timiano, alla luce di un accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana, sottoscritto con Regione Lombardia e finanziato con 4.880 euro. Il potenziamento prevede innanzitutto turni serali fino a mezzanotte per tutti i giorni della settimana con numero unico della centrale operativa 031 717 717. Uno o due equipaggi del nucleo radiomobile si occuperanno, oltre che del pattugliamento di polizia stradale, anche della verifica del rispetto delle norme anticontagio e del monitoraggio della legittimità degli spostamenti. Infine, durante il giorno, è prevista la pianificazione di servizi mirati nelle aree a rischio assembramento e nelle attività commerciali aperte.